Spetterà ad una perizia balistica stabilire l'esatta traiettoria del proiettile esploso da Freddy Pacini, il gommista di Monte San Zavino, che ha ucciso Mircea Vitalie, il 29enne di origini moldave che si era introdotto nella sua officina. Il PM Andrea Claudiani, titolare dell'inchiesta, ha infatti affidato la perizia balistica a pari de Minervini, 49enne maggiore dell'esercito italiano, paracadutista ed esperto di balistica. Minervini ha lavorato da alcuni dei più importanti casi della cronaca nazionale recente, da quello di L'Arialpi al Mostro di Firenze. Sempre a lui era stata affidata la perizia sulla morte di Gabriele Sandri per il colpo esploso dall'agente Luigi Spaccarotella nell'area di servizio di Badia Alpino. L'incarico sarà conferito il prossimo venerdì, l'esperto avrà poi 60 giorni per esprimere un parere. Sarà fatta una simulazione degli spari nell'officina di Monte San Zavino. La perizia dovrà ricostruire la traiettoria del proiettile ed eventuali rimbalzi, come ipotizza la difesa. Spetterà sempre alla perizia stabilire la posizione sia dell'imprenditore che del giovane moldavo, nel momento in cui sono stati esplosi i colpi. Freddy Pacini è indagato per eccesso di legittima difesa. Da quattro anni dormiva nella sua officina, esasperato dai furti subiti. Nella notte tra il 27 e il 28 novembre scorsi aveva esploso cinque colpi di pistola, una Glock semiautomatica, dopo l'ultima intrusione, provocando la morte del giovane per la recisione dell'arteria femorale. Grazie. Grazie.